Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere gli errori di Windows Defender in caso esca una X oppure un triangolino giallo prima era uscito un triangolino giallo qua poi ho riavviato il PC e si è risolto ma se in questo caso avete altri problemi in descrizione ho lasciato un percorso quindi copiate quel percorso e fate tasto Windows più R si aprirà questa schedina oppure andate qua sopra e scrivete esegui incollate quel percorso file che vi ho lasciato inizia con C quindi Windows Defender sta sempre sul disco locale C program data Microsoft Windows Defender ok facciamo così questo non ci serve local copy non ci serve e facciamo invio ok ed eccoci qua nella sua cartella quindi una volta fatto un attimo che vedo una cosa eccola qua Windows Defender andiamo su scans andiamo su history ci saranno un bel po' di cartelle tranne questa perché questa qua non me la fa cancellare perché richiede l'accesso dall'amministratore del PC anche se sono io l'amministratore del PC ma non me la fa rimuovere quindi cercherò di risolvere quindi vedrò nel profilo del computer quindi cancellate le altre cartelle ma se vi permette di cancellare anche questa cancellatela una volta fatto riavviate il vostro PC vi tornate su Windows andiamo su cronologia della protezione qui non c'è nessuna azione recente minacce consentite cronologia della protezione non c'è niente perché abbiamo cancellato tutti i suoi file e basta Windows Defender è ritornato a funzionare ed eccolo qua se il video vi è stato utilissimo ragazzi vi consiglio di lasciare un like iscrivervi al canale attivare la campanellina per non perdervi altri tutorial come questi fammi sapere se hai altri problemi su Windows Defender commenta se hai altri problemi su Windows Defender e ciao ragazzi ciao